Partono i lavori in via Falanga, storica piazzetta alle spalle di Piazza Santa Croce e in Litoranea. Ad annunciarlo l'assessore ai lavori pubblici Felice Gaglione. È stata avviata, è stata fatta la progettazione, è stata messa in gara, è stata sfidata la gara e a giorni partiranno i lavori. Considerando che è un tema un pochettino particolare, quello della piazzetta, perché coinvolge tante attività e quindi una grossa movimentazione di persone, di utenza, quindi di cittadini, che avranno un pochettino di disagio. In queste ore l'amministrazione si sta confrontando con i numerosi commercianti di via Falanga per trovare le soluzioni migliori per non danneggiare le attività economiche con cantieri e lavori. Ciò che preme maggiormente è garantire tempi celeri in modo da ridurre i disservizi inevitabili al periodo estivo. Quanto tempo dovrebbero durare questi lavori? Allora, i lavori dovrebbero durare circa cinque mesi. Però questo è il termine massimo che si è preso l'amministrazione, ma non dureranno mai cinque mesi. Di solito su ogni appalto si mette un termine massimo. L'architetto D'Angelo stamattina, ci siamo incontrati, abbiamo ragionato su questo, mi ha detto che il massimo per le fine estate sarà l'anno. L'architetto D'Angelo stamattina